Buonasera a tutti, siamo i ragazzi del Book Blog, del Salone del Libro e siamo qui con Anastasia Angioi, vincitrice del Torino Film Festival. Che esperienza è stata e cosa ci puoi raccontare? Allora, scrivere per il tutto il suo lavoro è stata una grandissima emozione perché penso che parlare molto più grande, delle loro storie, delle loro sofferenze che hanno trasformato in bellezza, in forza sia stata molto importante sia per me sia per la storia che ho scritto, sia per le altre ragazze, le altre mie amore principali però il Torino è fatto un fesimo spazio e lo voglio anche io Perfetto, grazie mille, buon proseguimento Grazie mille